Salvatore Encardona, un giovane professionista gelese, ha avuto l'idea importante nel nostro territorio di fondare una nuova sigla? Sì, nasce Federproprietà nel territorio gelese e in tutta la provincia di Caltanissetta. È un'occasione unica, non rara chiaramente, ma è un'occasione unica per il territorio gelese e in particolar modo per il territorio provinciale perché proprio l'obiettivo di Federproprietà è quello di tutelare al meglio i proprietari di immobili e comunque proprio il patrimonio immobiliare della provincia in sé. Valorizzazione che passa anche dal territorio, visto le ultime vicende, come ad esempio la reintroduzione del LIMU voluta dalla comunità europea dove già Federproprietà sta iniziando una class action contro. Ci sono, la gestione del patrimonio per i privati specialmente rappresenta un carico di lavoro che ovviamente se non è delle conoscenze specifiche diventa a volte abbastanza complicata. Voi vi occuperete anche di questo? Senza dubbio, offriremo un supporto tecnico e giuridico per quelle vessazioni che ahimè oggi colpiscono soprattutto i piccoli proprietari di immobili. Mi riferisco anche alla pressione fiscale che ci impone giustamente questo periodo storico dovuto prettamente alla crisi. Infatti Federproprietà non nasce a casaccio ma nasce proprio in un periodo storico dove il reale interesse di ognuno di noi è quello appunto di tutelare il proprio patrimonio che oggi si ritrova. Può capitare che un soggetto erediti dei beni immobili e che non abbia idea di come gestirli può rivolgersi a voi? Come? Dove vi trova? Quali sono i vostri contatti? Sì, senza dubbio abbiamo un parterre di giovani professionisti tecnici e giuridici dove offriranno la consulenza a chiunque ne voglia usufruire. La sede è in via Sicilia 104 e per chi avesse intenzione di aderire a tale Federproprietà, a tale associazione, è libero di chiamare lo 0933 196 0334. La tutela del proprio patrimonio oggi è sempre più sentita un'esigenza importante da parte di tutti i cittadini che appunto sentono il loro patrimonio aggredito. Senza dubbio, ripeto, la pressione fiscale oramai è a livelli colossali e ognuno viene vessato da quelle che sono le tasse. C'è un sistema di tassazione in Italia e soprattutto comunque anche nel territorio siciliano e in particolar modo quello della provincia di Caltanissetta, provincia che purtroppo mi preme registrarlo perché con altri colleghi di altre sezioni abbiamo fatto proprio un'indagine di ricerca, appare una delle più povere a livello nazionale, è chiaro che ogni proprietario venga vessato dalla tassazione in atto. E può capitare che un soggetto non avendo delle competenze specifiche magari paghi una quota non dovuta? Senza dubbio, in quello proprio Federproprietà si pone da supporto al proprietario di immobile, giusto appunto per dare il consiglio esatto in materia.